Parliamo con Ale Cazzamali, autore del gol a vittoria, insomma gli anni passano però la tua testa è sempre importante sia per quello che pensa che quando colpisce di te, mi colpisce il pallone. Sono le mie caratteristiche, siamo contenti, siamo davvero anche negli spogliatoi c'era entusiasmo, abbiamo gioito tanto perché qua è una piazza esigente, una piazza che merita, la squadra è una squadra importante e avevamo bisogno di questo. Finalmente siamo riusciti a fare una prestazione importante con i tre punti, spero che questa sia la volta buona per darci slancio e cominciare a ingranare bene come stiamo facendo adesso. È negabile però che stavate per rovinare la buona prestazione nel finale? Poi il calcio è questo, d'altronde come domenica scorsa senza prestazione stavamo facendo i tre punti, oggi sicuramente abbiamo rischiato, abbiamo rischiato magari nella fine, forse l'unica occasione creata, perciò a volte può capitare anche di prendere gol, però io sono contento, nove volte su dieci queste partite le vinci e noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare con una squadra ostica, una squadra che stava bene, ha fatto sei punti, ha preso zero gol, l'ha dimostrato anche oggi prendendo un gol solo, però finalmente siamo stati noi bravi a non subirne. L'obiettivo chiaro del Sant'Angelo di quest'anno, si punta a vincere il campionato? Ma sai, vincere è sempre dura, noi puntiamo, puntiamo in alto e ci proviamo, poi la squadra è buona, la squadra è bella, non si può negare, abbiamo appunto, però il discorso è quello che siamo tutti nuovi, è una squadra completamente nuova e un po' di tempo era necessario, io spero che questa sia la prestazione che ci possa sbloccare, dare inizio a quello che stiamo preparando e che sono convinto che possiamo fare, perciò la vedo in maniera molto positiva.